scritto da Vittorio Cielo, Misio vorrei salutare tutti voi, tutti gli amici e colleghi che considerano veramente degli eroi perché veramente credo che dobbiamo viverci come degli eroi perché sappiamo tutti quanti quanto è difficile continuare a fare questo mestiere, questo lavoro quindi veramente solo la nostra passione e il nostro crederci e quindi sono anche molto contenta di fare parte del grande sogno che ha sempre avuto Luca e quindi di stare qui nella sua stagione, di stare qui con voi io farò un monologo che si chiama Io sono Misia ed è la storia di una donna che ha scritto Vittorio Cielo per me e che ha cucito addosso Francesco Zecca il regista con il quale sto lavorando da parecchi anni è una bellissima storia, uno spettacolo credo molto poetico e credo di essermi molto sovrapposta su questo personaggio che è realmente esistito che è stata la musa ispiratrice di tutti i grandi artisti dei primi del Novecento in un periodo storico di Parigi che a me è sempre molto affascinato vi aspetto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti